Ciao dall'Italia, ciao da casa UIV, la casa di chi ama l'italiano, la casa di chi vuole vivere in italiano, la casa di chi ama il congiuntivo, di chi ama leggere i libri sul congiuntivo. Devo fare un annuncio, devo annunciare una novità, una bella novità e questa novità è una conseguenza di una nostra iniziativa e per questo sono ancora più felice e orgoglioso dell'annuncio. Prima però è necessario fare un recap. Recap, recap, recap. E che cos'è questo recap? Sì perché in questi 12 mesi con sempre più insistenza in radio, in televisione sento dire recap. Certamente da tanto tempo lo sento in inglese, in francese, ma in italiano no, non lo sentivo prima, adesso sì. Dobbiamo ingoiare, mandare giù anche questo recap? Per me non c'è problema, puoi dire quello che vuoi, puoi dire tutti i recap del mondo che vuoi, però io continuerò a dire che cosa posso dire? Ad esempio riepilogo, riepilogo, il riepilogo, i riepiloghi. Guarda che bella parola. Oppure riassunto, faccio il riassunto delle puntate precedenti, è diventato un modo di dire, scherzoso. Ti faccio il riassunto delle puntate precedenti e qua la mente ritorna ai telefilm, prima ancora che si chiamassero serie, alle telenovelas, come si chiamavano in Italia, quelli con centinaia, migliaia di puntate e lì il riassunto delle puntate precedenti era necessario, a favore soprattutto di chi si fosse perso qualche episodio. Il riassunto mi fa venire in mente la scuola, è un testo scritto, il riassunto è un testo sintetico che riprende le parti essenziali di un componimento. Il riassunto può essere anche di un discorso, ed è questo il caso. Segnalo anche la parola assunto, sinonimo di riassunto. Assunto è un po' più ricercata, meno usata. Assunto può essere considerata come il riassunto di riassunto. Assunto è più breve. C'è anche la bellissima parola sintesi femminile. La sintesi plurale, le sintesi. Non cambia come tutte le parole che finiscono per i. La sintesi, le sintesi. In UIV c'è una raccolta di video chiamata in sintesi e non a caso questi video sono forme ridotte più brevi di video pubblicati in precedenza. Sono un compendio, altra parola bellissima ma meno usata, un compendio di video di argomenti trattati in precedenza. Proprio non direi invece ricapitolazione. Ricapitolazione con la i. Se proprio volessimo trovare una forma più breve, più veloce, più efficace, direi ricap con la i, non recap. Siccome si dice che gli anglicismi servono anche per risparmiare tempo, ma non è sempre vero, anzi, siccome si dice che gli anglicismi sono più veloci, beh allora c'è la versione italiana e italianissima, la forma accorciata. Ricap, se proprio vogliamo coniare un neologismo. Il ricap. Facciamo un ricap, va bene. O facciamo un riepilogo. Sì, perché recap può anche essere più breve. Recap, recap. Ma tu, con il tempo che risparmi dicendo recap al posto di riepilogo, esattamente, che cosa fai? Allora, premesso tutto questo, adesso ti faccio il riassunto delle puntate precedenti. Come ho detto prima, non userei il sostantivo ricapitolazione, ma userei il verbo ricapitolare al gerundio. Allora, ricapitolando, riepilogando, riassumendo, ti dico che un mese e mezzo fa più o meno avevo annunciato l'uscita di due libri di Antonio Zoppetti, uno sugli anglicismi e uno sul congiuntivo, sia in formato cartaceo, sia in formato digitale. Qualche giorno dopo, ecco la seconda puntata, qualche giorno dopo, su segnalazione di più di un amico di UIV, avevo verificato meglio e avevo annunciato che la versione digitale non c'era. C'era solo la versione cartacea, quindi avevo fatto una rettifica. Terza puntata, non era ancora giusto, ho fatto la rettifica della rettifica, perché dopo un'attenta analisi, finalmente, una mia attenta analisi, ho capito che il libro sugli anglicismi era disponibile in formato digitale e a richiesta è disponibile ancora adesso in formato cartaceo. Il libro sul congiuntivo e solo quello non era disponibile in formato digitale, solo in formato cartaceo. E allora ho scritto ad Antonio Zoppetti, ho segnalato questa mancanza fondamentale, ho scritto ad Antonio per l'interesse che c'è all'estero, tra gli studenti di italiano sul congiuntivo. Sì, all'estero c'è interesse sul congiuntivo. In Italia, vabbè, ma vedremo che gli italiani, i nativi italiani, non hanno tutti i torti rispetto a questo atteggiamento sul congiuntivo, ma ne parleremo un'altra volta. Per l'interesse che c'è all'estero, ripeto, fra gli studenti dell'italiano sul congiuntivo, l'ebook sarebbe proprio necessario. Speriamo davvero che a settembre sia disponibile. Pensi che un'email alla casa editrice con una manifestazione di interesse in merito potrebbe stimolarli ulteriormente a produrlo? Antonio Zoppetti ha girato il mio testo all'editore e pochi giorni fa ecco il messaggio che mi è arrivato dallo stesso Antonio Zoppetti. Volevo informarti che, dopo le sollecitazioni all'editore di cui sei stato il protagonista, di cui siamo stati i protagonisti, da oggi è disponibile la versione ebook del libro sul congiuntivo. Successo, successo, ce l'abbiamo fatta! E poi, aggiunge Antonio Zoppetti, per ora vedo che è comparsa su Amazon e Epli, ma nei prossimi giorni si estenderà su tutte le altre piattaforme. Un abbraccio, un abbraccio a te. Antonio, ancora complimenti. Sono contento di aver potuto annunciare questa bella notizia a chi aspettava la versione digitale del libro sul congiuntivo di Antonio Zoppetti e questa stessa notizia mi stimola a pubblicare altri video pubblici sul congiuntivo. Ce ne sono già tanti, ma ne voglio pubblicare altri. In questi 12 mesi, con gli abbonati, abbiamo parlato più volte del congiuntivo e abbiamo detto delle cose un po' diverse da quelle che si sentono di solito. È giunta l'ora di parlarne anche in pubblico. Nel frattempo, buona lettura, da oggi anche in formato digitale, del libro sul congiuntivo di Antonio Zoppetti e anche del libro sugli anglicismi. È tutti e due. Antonio Zoppetti è una garanzia, una garanzia di qualità. Io intanto continuo a meditare su recato, recato, recato. Riassunto, è così bello, piace tanto a Gülsün. Io preferisco riepilogo, bellissimo, recato. Viva la libertà, fa come vuoi. Ciao. Grazie.